Ben ritrovati al NOTES di Antenna 3. Vediamo subito insieme gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi la mostra intitolata Tra i maestri del vero Luigi Cima, un progetto espositivo con l'organizzazione dell'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna in collaborazione con l'associazione Art Dolomites. La mostra, visitabile fino al 5 giugno, si svolge in tre sedi, a Mel presso il Palazzo delle Contesse con l'esposizione pittorica, a Tricchiana, Sala, Tina, Merlin, la mostra fotografica di Walter Argenta e Dario Tonet sui paesaggi dipinti dal Cima visti cent'anni e dopo a Lentiai nel nuovo oratorio con l'esposizione dell'archivio storico personale del pittore e con la sezione di arte sacra. Nel 1941 nacque lo stato indipendente di Croazia. La nuova entità statale comprendeva la maggior parte della Croazia e tutta l'attuale Bosnia e Herzegovina ed una piccola parte della Serbia, ma venne privata della Dalmazia che divenne territorio italiano. Il Regno d'Italia con lo smembramento della Jugoslavia creò un proprio governarato che comprendeva la Dalmazia, parte della Slovenia e la costa montenegrina, inglobando inoltre il Kosovo e una parte della Macedonia. Il nuovo stato comprendeva circa 6 milioni e mezzo di abitanti. È più difficile rinunciare all'amore che alla vita. Luis Selin La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere Villa Cazzenobio a Treviso. Il complesso dominicale originario è visibile già in una mappa del 1680 e nel 1700, che il palazzo divenne ristrutturato e ampliato, venne poi aggiunto al corpo centrale con le ali laterali e un attico. La villa conserva importanti testimonianze figurative che costituiscono una pagina significativa della decorazione settecentesca veneta. La sala della musica fu decorata con affreschi alla moda attribuiti a Gregorio Lazzarini. Nella sala da ballo sono rappresentati episodi di tematica storica. Attorno alla villa il parco storico conserva molti grandi alberi. Dal Notes di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.